Stava camminando per strada vicino alla centralissima piazza Roma, a Catania, quando è stata investita da un autobus di linea della MT. E' la disavventura di una studentessa che adesso si trova ricoverata all'ospedale Garibaldi. A chiarire l'esatta dinamica dell'incidente saranno i vigili urbani di Catania che hanno condotto i rilievi, ma ecco cosa raccontano i testimoni. Dicono che una ragazza è stata investita o non si sa come, ha sbattuto la testa, la parte frontale e ha rotto anche il vetro dell'auto. Dalle distanze che sono io da qua, dove è successo, ho visto subito che c'era affollamento di gente, hanno soccorso e sono venuti i vigili urbani.